Uno straordinario gol di chiacchierelle all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero regala alla San Nicolò il successo sulla Civitanovese e l'accesso ai play-off. Al triplice fischio festa grande per la formazione abruzzese per un traguardo insperato sino a due mesi fa. Ai rosso-blu marchigiani resta l'amarezza di essersi visti strappare il quinto posto proprio allo scadere di una partita che Margarita e compagni hanno interpretato nel migliore dei modi nonostante le note vicende societarie. Ma alla fine è giusto così, si chiude una stagione tribolata per la Civitanovese e la speranza da queste parti è che si possa ripartire dalla Serie D. Perché i 600 tifosi presenti al polisportivo che hanno incitato la squadra per l'ultima di campionato meritano rispetto e sicuramente molto di più. Bello l'applauso che i sostenitori di casa hanno tributato ai giocatori altrettanto importante è stato il gesto della squadra che alla fine del match è entrata nel settore degli ultra per raccogliere gli ultimi abbracci. Per quanto riguarda la gara il risultato di 2-3 per gli ospiti conferma che le emozioni non sono mancate. Oltre ai 5 gol ci sono state almeno altre 3-4 occasioni importanti per entrambe le squadre con salvataggi sulla linea e superparate. La formazione di Massimo Epifani gioca bene nel primo tempo, si porta sul 2-0 ma nella ripresa subisce la rimonta dei padroni di casa. Al decimo il San Nicolò è in vantaggio grazie ad un affendente di Valim al quinto centro stagionale sotto gli occhi del presidente della folgore Falerone Luciano Bartolini e del DS Claudio Cicchi. Ospiti vicini al raddoppio poco dopo con Moretti che da due passi calcia malissimo. Poi è Silvestri ad alzare in calcio d'angolo sull'incornata di De Santis. E' una partita vivace, Scibal diciannovesimo ha l'opportunità di trovare il pareggio. La Civitanovese sale di tono e al 27esimo il tiro di Bigoni sembra destinato in fondo al sacco ma Iaboni pulisce sulla linea. Il vento di Tramontana favorisce il San Nicolò mentre penalizza i locali. In pieno recupero Bartolini si guadagna il calcio di rigore tra le proteste dei padroni di casa. Dal dischetto va Iaboni che non sbaglia. Nella ripresa i rosso-blu hanno il favore del vento, alzano il baricentro e al tredicesimo arriva il gol di Margarita sugli sviluppi di un tiro d'angolo. Al ventesimo volo straordinario di Lupinetti che nega la doppietta a Margarita. Il pareggio arriva comunque al trentaduesimo. Bodì entra scordinato su Margarita dal dischetto va Pintori che spiazza Lupinetti. E' il momento di chiacchiarelli che in settimana non era stato bene. E' sua la magia che porta il San Nicolò in paradiso tra l'esultanza del direttore sportivo Ciccio Micciola e del presidente Salvatore Di Giovanni. Ed ora la sfida con il Campobasso per continuare a sognare senza impegno.